Intanto diciamo che mai il titolo fu più profetico, non l'ho scelto io, ma l'ha scelto l'editore. In bilico è proprio come... Il deambulatore. ...ha bisogno del deambulatore per non cadere, quindi è crudele, diciamo, quel titolo, ma fotografa è sicuramente un problema, il problema sono i soldi, cioè chi finanzia, ha già cominciato a finanziare pesantemente Biden, si domanda se il cavallo su cui hanno messo tutti i soldi è in grado di arrivare a fine corsa, ma non solo. E se anche vincesse cinque anni col deambulatore, questo è l'interrogativo che tutto il mondo credo si ponga, perché la più grande potenza con una persona che dice apertamente che dopo le otto di sera deve andare a dormire, speriamo che la guerra in tutto il mondo cominci prima, perché altrimenti è un problema. Quindi credo che ci sia un tema enorme, un dramma, perché avrebbero dovuto pensarci prima i democratici, diciamo la verità, questi segnali su Biden c'erano quando io ero in America, perché Biden ha sempre peggiorato di mese in mese, non politicamente, secondo lui ha fatto delle scelte giuste, ma dal punto di vista della tenuta psicofisica e soprattutto di non fare quello che gli americani chiamano passare la torcia, pass the torch, creare una nuova classe dirigente del domani. Questo non l'ha fatto, ha tenuto a sé il potere, come fanno tanti vecchi leader però in Cina e in Russia, ma non nei paesi democratici, dove ad esempio Starmer è un bel esempio di rinnovo della classe politica, con tutte le incognite, però con, cosa mi piace di Starmer, con nessun populismo e nessun cedimento all'effetto, ma con fare, l'idraulico, quello che ti risolve i problemi, che poi è l'unico modo per sconfiggere i populismi, secondo me batterli sul terreno della concatenza. Comunque parlando di Biden, questo è un dramma, Johnson si dimide con grande gesto, che gli chiedono di fare anche a lui, allora alla fine Vinci Nixon, questa volta potrebbe vincere Trump. Allora Luca, tu hai un libro...